ma se vinciamo sta partita affanculo di benvenuti in un'altra puntata di Trollandia con lo scabuzzino del nerd mettete mi piace a loro eccolo perché sta stupida cosa non registra c'è io ero in difficoltà ogni volta che stavano ogni volta che stavano adesso stiamo registrando che coglione vabbè tanto ci sta comunque stavo dicendo ciao zack ciao zack se anche a voi piace la canzoncina di zack mettete mi piace al video e anche a troll lo scabuzzino del nerd ma io aspetta 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 rica ma un art tipo quello di kyle chi è mid? raffaiano adesso è gratis ma perché io hai i teleport in mid? no perché vega è top e tu sei mid ah ok ma chi è che hanno loro di top? grazie la risposta giusta è chi se la frega con vegar si inizia di meteora vero ale? no si inizia di clu se mi trovate volentieri ma scrivi un secondo ma tu puoi ma kassadin ha la passiva che può passare attraverso le unità? no la si 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 tipo fizz è la stessa di fizz con cosa si starta con kyle? con la dignità no 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 che item? starta con il doran ah è vero è vero che si uscirà il doran eh io non uso mai non ho mai non toccarmi le tette kassadin non toccarmi le tette il trinket 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 stai calmo un mille cale dove un mille quindi puoi andare qualcuno mi ha viatto un'immagine fa che siano tette fa che siano tette fa che siano tette tante oh sei support barbone non rubarmi ahahah culpa mia dai dai statero neanche gli oggetti da support non li hai preso sei proprio sfigato perchè prendo il mejai così prendo gli assist senti oh questo si trompo vado a paca oh dio che male beh a livello 2 sono morti oh a te kill si mi sembra una cosa tutta rossa nooo buono ah beh è vero si prende ah poi si è diana si dai eh no 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 vabbè ven continua a buttarmi contro le pareti solo perchè invidiosa che sto farmando in realtà farma più lei però il mio farm vale doppio che cazzo è successo Wembo si e tu mi stili tutte le kill ma io ho 2 ho 3 kill ho 3 kill ma qualche roba buonissima ops e ora ho fatto un altro tempo no ti devi mettere una ward io non ci credo non la prendo più non ci credo non la prendo più non ci credo non ci credo non ci credo Lool è già la quitta volta a ridere Aspettami, non mi abbia garanto No, non sto in miniatura Guarda che non aveva l'ultima, è giusto Quanto? Vai Non è che non aveva l'ultima Io? No, non avevo l'ultima Ah, lo fai tornando Giorgio Giorgio Ma hai tirato anche la quitta No, cioè Mi hanno ucciso i miniatura in serio Prego prendila No Cos'era quel flash? Lool No, non ho anche tirato la cosa su Quell'altra Buona Tanto sapevo già che ci muove No! Oh, ma non l'ho fatto apposta, giuro No No Eh, ho detto no Che cazzo E' il problema che mi ha camminato lei addosso Io, io mi trovo là per sbaglio, lo giuro Non volevo uccidere Non mi ha fatto Mi ha dato che la... mi ti aveva già 1.2 Pagno No, io non posso portarti di più Ah, ma non posso non poterlo Corri, corri Oh, ma Dio, ho sentito le skin Le fanno skin C'è il, passi Cosa? Alice Bay? Cosa? Sì L'ho tension Cosa 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 Castle Cosa Cosa come siete spronti eh? come siete svegliati? te lo so! oddio non l'avevo mica visto ma che cazzo siete veriti? siete dei testi piccati dai sveglia ma l'avevo vista io e poi comunque anche se picchiavamo lui gli altri due si giravano ma è giù perché le blanca a ti? non lo mi sa? no